Musica Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Kingstave Corporation Ragazzi, vi devo dire una cosa abbastanza importante, spero che non me la prendiate troppo La parte 8 dell'episodio 1 del loro game show di Resident Evil Village Purtroppo, come dire, nei primi 12 minuti è andato tutto bene Ma dopo 12 minuti di video è cominciato a essere laggante Perché purtroppo ho fatto l'episodio mentre ero in live E l'errore più grande fu questo Purtroppo tutto il combattimento, la boss fight di Beneviento Del bambino gigante che ci inseguiva e tutto Delle sblocco armi eccetera Purtroppo non si riesce a vedere bene Mi dispiace per questo, mi dispiace Però se riesco domani vi farò vedere l'episodio 10 e 11 insieme Per farvi perdonare Mi dispiace moltissimo, non accadrà mai più E farò le mie registrazioni normale Grazie ancora per il supporto della serie che mi state dando E niente, direi di cominciare Chiedo scusa ancora a tutti voi Allora, nemmentre Sono andato avanti dopo un po' Sono andato qui A prendermi tesoro Anche se qui dovrebbe essere ancora zona esplorabile Non so perché però Niente, dovevamo verificare tutto E niente Da Beneviento non scenderemo mai più Ora dobbiamo andare soltanto da una parte Da Morò E andremo da Morò Ragazzi, ripeto ancora A mal in cuore Mi dispiace quello che è successo Davvero, non accadrà mai più Fidatevi Allora, siamo qui Siamo qui E da Morò E vediamo cosa c'è in serbo Porca puttana Ma sei scemo Oh, ma ho fatto che da sotto intanto, eh Dovevo fare qualcosa? No, ok Pezzo di merda Pezzo di merda Ok Eh vabbè Qui non credo che Sopravviveremo molto Ah, tra l'altro Ho potenziato Tanta roba, ragazzi Ho potenziato al massimo il fucile La pistola qui Abbiamo ottenuto delle parti E niente Questo È quanto Interagisci Le mie ferite sono gravi Non mi resta molto Lo sento muoversi intorno alla casa I colpi che ho sparato Lo hanno scappato a stento Sono come un giocattolo per lui Non è seguito Comunque Se riuscisse A vecchio mulino Potrei fermarlo Potrei Potrei proteggere Molto vicino A vecchio mulino, eh Allora, qui Ha detto che abbiamo delle scale E infatti Andremo su Trove le scale Dov'è sto vecchio mulino? Per di là Perfetto E niente Laga Non so perché C'è ancora questo problema Però Vabbè Vabbè Proseguiamo Allora Non c'è niente Da lì noi Però Dove dobbiamo andare? Visto che Siamo di qua Dobbiamo Dobbiamo raggiungere questa parte Allora Raga Dobbiamo andare dritto di noi Poi passare da quel porticello E andare Effettivamente Lì Quindi scendiamo per di qua Allora Dobbiamo correre All'impazzata Corriamo Eh niente Non mi fa scendere Corriamo Corri Corri Testa di cazzo Testa di cazzo Testa di cazzo Veloce Veloce Devi essere veloce Ok Oh Sì Per Diana Sì Oh sì 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 Scelta rapida E leviamo questa pistola Di merda Vai Allora Abbiamo soltanto Le dicendiarie E va più che bene Tra l'altro Molto bene Raccogli Grimandello Oh Pure Molto bene Adesso si trova Il pezzo di merda È chiuso da questa parte Se lo troviamo Sappiamo cosa fare Ma non c'è più È morto Scomparso Ah Eccoti Pezzo di merda Io ti faccio male Te lo dico No pezzo di merda Ok Molto bene Muorici male Ok Molto bene Ho ucciso Il figlio di puttana Qui Ora vorrei andare a prendere Un paio di galline Qua dietro Perché Ah Ci abbiamo proprio C'è proprio Il coso Interagisci Serve qualcosa Questo No Non serve E allora Niente Andiamo a esplorare Piano piano Tutte le cose Allora Di qua Se può Fa qualcosa Allora Che succede Ah Mi stupisco di cose Che non esistono Va bene Allora Cosa Dobbiamo trovare In questa casa Avevo tante cose Vero Chiudi Ah ma qui Non c'è più niente Credo No Non c'è niente Vabbè No Dobbiamo andare dal murino Dobbiamo andare dal murino Ma ora no Io che te lo vi fa Pezzo di merda Che mi fai prendere i colpi C'è un altro Ah ma sta casa Me la ricordo Ciao Adesso quanto sono preciso Ultimamente Ah ma questa È la casa vecchia Dove ci siamo stati No Dobbiamo andare dal murino Eh andiamo dal murino Mamma mia Che schifiume E ricometterò Sempre si possa Sempre si possa Ok Si pare proprio Che stiamo andando Da moro Eh Allora ricarica tutto Voglio che tutto Ricarichi Tutto Allora di qua È chiuso dall'altro lato Uh maiali Ed è Ah Ci dobbiamo Rappicare così Perfetto Abbiamo il murino Eh maiali Uno E due Carne 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 fresca Allora andiamo qua dietro Vediamo cosa è Uh Interessante Noi abbiamo una sfera Vero C'è un foro in cui si potrebbe Inserire una sfera Ma davvero Pensavo che Si potrebbe inserire Qualcos'altro Non ne so Dio mio Foto di un animale Laro Ok Ma qui si può salvare Effettivamente salviamo Ehm Ascensore Del lago artificiale Ma qui c'è qualcosa Che si può fare No Allora dopo vedremo Ma qui Ci si scende giù C'è qualche cosa Che ci può essere utile No Ok Registrerò anche la parte 10 E la parte 11 Ragazzi Tra l'altro le 4 e mezza Mi sembra che esca L'episodio numero 8 Eh la parte 8 Che Ripeto ancora una volta Ragazzi Mi dispiace Immensamente Allora Se andiamo per di qua Che succede Si è bene chiusa Dall'altro lato Ah ok Non possiamo andare Quindi andremo per di qua C'è qualcosa C'è qualcosa qui Da questa parte C'è qualcosa Qui è chiusa No c'è qualcosa Lì sopra Ah no Bisogna salire da un'altra parte E quindi Credo che dobbiamo andare Qua Ok Ok Un po' schifoso Però vabbè Non mi da il resto Non è Facciamo del nostro meglio Oh eccolo Abbiamo anche il flacone Ah tra l'altro Il secondo flacone Di benedimento L'ho messo Lì all'altare Quindi Prendilo Prendilo Flacone delle braccia Che schifo Madre Miranda Per voi farei Qualunque cosa Ciao Questo qui lo prendo io Ehi 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 La bimba speciale Di Miranda Cosa vuoi fare Non è sua figlia Oh Hai qualcosa Al contrario Che significa La bimba speciale Di Miranda Madre Miranda La rifuole sua figlia Basta Stronzate Aspetta Ti prego Ti prego Se me la rubi Gli altri Rideranno di me Ma Se sarò Più bravo Di loro Fermo Un attimo Solo Di Ma non ma che inquietudine Che c'è Dandine Sei Stupido E parli Troppo Ti ho pregato Ho bloccato L'uscita Cosa stai Questo È il mio Territo E io Non ti farò Scappare A me Tocca sparare Tutti I bustoli Il cazzo Qua Beh Non mi fai che Sotto così Però Stai citto Corri 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 Tela 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 Allora Allora Lì c'è Un oggetto Ma non possiamo Prenderlo Per adesso Vero No E di qua Avvia Ecco Ecco che cosa Con questo Serve una chiave Per avviare la barca E non ce l'abbiamo Quando avrai finito Lascia la chiave Nella barca Della capanna Della miniera Hans è morto Niente Pesca per un po' La barca Della capanna No aspetta Dove rileggere il messaggio Perché non ho capito Una sigla Quando avrai finito Lascia la chiave Della barca Nella capanna Della miniera Capanna Della miniera Qui Capanna Della miniera Ah ma qui Bisogna salire Munizione pistola Molto bene Oh signor di dio Eh Un po' più piano 280 lei Qui c'è qualcosa No C'è qualche nemico Che vuole affrontarmi Ah I soliti pezzi di merda No questo mi serve Sono qui Che vogliamo fa? Riavazziamo? Tu? Vedi E' tutto più semplice Scusate raga Ma la tv Ha deciso proprio Adesso In questo momento Di avvertirmi Che tra 300 secondi Si spegne Chiamate la bacca Eccola qua Ah Ciao Tu alle spalle Però Non è che stai Non sei più figo Ma perché Dovevo fare Tutte le cose Tutte due? Yes Ah pure tutte Listo? Tutto semplice Pezzo di merda Ma si fa Ma si fa così? Si fa No che non si fa Tutto rigido Tutto rigido Allora Munizioni fucile Munizioni fucile Sicuro Munizioni anche di questo Ancora Ok Ok Ah volevo esplodere Un altro po' qua Volevo vedere La roba Qui Se c'è Se c'è 280 lei Si parla sempre De lei qua Ormai Ritorniamo indietro Abbiamo fatto Tutta sta strada E ritorniamo indietro Tanto so sicuro Che c'è qualcuno Che ci blocca la strada Oppure Che qualcuno Fa il figlio di puttana Quanto è probabile Quanto è quotato Questa cosa Che qualcuno Adesso Fa il figlio di puttana Dove Dove Ah qui Di sà giù C'è un altro Un altro ancora C'è qualche altro Figlio di puttana Qui Ok Grazie Ciavedo la barca Forza Che bella sta cosa Allora Devo sapere Perché Perché Non si è mosso Più il mulino Perché io Non posso Prendere il tesoro Se questo mulino Non si muove Lo dovrò muovere Io in futuro Boh Non lo so Andiamo con la barca Che cos'era Mi ricorda molto Resident Evil 4 E non ho ben ricordi Con le sede in tv 4 Posso andare per di qua Mi mangia? Non posso andare avanti No Allora andiamo indietro Mi sono cagato sotto Sì Puoi dirlo forte Un extremis Mi sono cagato sotto Dai veloce Dai scendi dalla barca Poi quando ti rivediamo sicuramente il mulino Andiamo andiamo indietro a prendere il tesoro Ma Attenzione Abbiamo della roba Interessante Apriamo Interessante Molto bello Interessante Che scipa Oh Chris Redfield No No N'è vero L'analisi dei campioni Che è sicuramente un legame con la muta Cosa? Di che cosa? Quali legami? Con chi? Oh merda Ma Spero che è morto Spero vivamente che sia morto Porco Giuda Niente siamo sott'acqua E' finita Per sempre Andiamo per sempre Mai più arrivederci Rose Credo che qui Dobbiamo solo scappare Non dobbiamo fare nient'altro Che scappare Che schifo L'uscita è sott'acqua Dai Dai non laggare adesso Per Dio Dai Certo che è brutto Che schifo Non ti avvicinavo Non ti avvicinavo Non è giusto Dovrei esserci io con lei Non tu Di che stai parlando? Eh vabbè A me muovi addosso Sei stronzo Che cazzo di problemi Non riesco più A A tenermi Oddio Oh madre Perché Mi sa che dobbiamo Scappare Ah io scappo No no Ciao Sì Salta Sulla terra Non ti può A terra Non ti può Uccidere Quindi Stai da un zollo Ma qua siamo A mulino Io direi di andare Per di qua Gate house C'è qualche sabbataggio Prima? Non ho capito che cos'è Luca Mortacci tua L'abbiamo Vadoo cagato sotto Male Malissimo Allora aspetta Dobbiamo vendere un pari di roba Questo ancora no Cuciniamo qualcosa? Se ce l'abbiamo eh Ma capisce però Credo che pesce Ho qui delle novità Proprio per te Signor Winters Sì lo so che c'è Novità per me Allora Queste sono tutte le armi Che ho venduto C'è qualche cosa Nuovo? Ah questo L'ho venduto Ah no no è vero No l'ho venduto Ho chiedo scusa Però se ci ripetiamo Questo che è più potente No non mi va di prenderlo Sinceramente eh Non mi va proprio Non voglio No non lo voglio Però Se ci abbiamo ingredienti Possiamo creare Non vedo l'ora di scoprire I frutti delle tue scorribande No niente Dobbiamo continuare Dai Grazie Luca Pelli Andiamo qui dietro Qualcuno che sta a cagare Fluido chimico Andiamo qui sopra Vediamo un po' La situation qui E Niente Questa manovella È becca e consumata Sembra che possa staccarsi In un momento all'altro Spero che non si rompa Quale manovella? Galline! No mi serve questo Questo va bene Frammento di cristallo Se vado in tesori Scarte arruginite Mi servirebbero però Le munizioni del pom Neanche Ne ha Ne ha Ne ha Ne ha C'è proprio Colattri cinesi 500 lays Sentiamo qua dietro Che succede Si può scendere C'è Ho sentito il rumore Di capo Sta laggando? No Mi sa che se rompe Come previsto Dannazione Dannazione pistola Oh Oh Con Cosa Le muline E via Ah si corri dentro Munizioni pistola Corri veloce veloce Corri veloce veloce Dove cazzo devo sparare per Diana Ma dall'altra parte aspetta aspetta Veloce 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 Vai a fare il culo vai Allora Dovevi essere tranquilli Tutto sotto controllo Non ci prendiamo dal panico Ok si è andato per di là Lo facciamo venire qua No no non ho capito che devo fare Proprio non ho capito Dovebbe cadere quel pezzo Ma non cade Ma gli devo dare una botta io Non mi lega te Corri veloce 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 Perfetto Ah eccolo eccolo Si ok Perfetto 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 Perfetto